il mio tesoro. Indossando questo ring gen 2 mi sono sentito un po' gollum del signore degli anelli. Oggi vi parlo della mia esperienza. Ciao amici benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di anelli smart che è la nuova tendenza quando si parla di monitoraggio della salute mostrandovi questo ring con di seconda generazione che io ho indossato per più di un mese prima di portarvi questo contenuto. Devo essere sincero all'inizio ero un po' scettico ma facendolo entrare nella mia quotidianità a me è piaciuta sia l'idea sia il prodotto in essere. Ma prima di andare a vedere più da vicino questo anello smart di Rincon solito momento supporto lasciato un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna notità e commentate perché il vostro parere è importante e seguitemi su TikTok dove porto guide, trucchi e consigli in meno di un minuto. Per qualsiasi dubbio poi iscrivetemi su Instagram o tramite il mio canale di supporto Telegram aiuto veramente tutti i miei riferimenti li trovate sotto in descrizione dove trovate anche il link per il mio canale Whatsapp dove seleziono un sacco di link interessanti. Cari amici partiamo dalla domanda che ci siamo posti tutti come fa questo anello ad adattarsi alle dita visto che ognuno di noi ha dimensioni diverse beh semplice prima di acquistarlo si può chiedere un kit gratuito che ci fornirà un sample in plastica in varie dimensioni dalla 6 alla 14 che ci permetterà di provarlo in modo da capire qual è il dito su cui indossarlo e anche la misura più adatta a noi e anche qual è la colorazione che più si addice ai nostri gusti infatti riceveremo anche tre sample per meglio apprezzare la tonalità oltre questo colore acciaio è disponibile in nero e in oro. Aprendo l'applicazione si nota subito che non è in italiano ma l'azienda ha dichiarato che arriverà a breve la traduzione come arriverà anche una pagina dedicata su Amazon per la vendita la prima cosa è che possiamo vedere il grafico ortagonale dove sono visualizzati l'andamento dei segni vitali del sonno dell'attività fisica e dello stress del giorno precedente confrontati con la settimana appunto appena trascorsa dove si ha subito un'idea chiara di come sono andate le precedenti 24 ore dopodiché abbiamo i dati del sonno, dell'attività fisica, del battito cardiaco, dello stress e del monitoraggio delle apnee notturne funzionalità quest'ultima che riduce l'autonomia al dispositivo che va attivata manualmente e ha bisogno di almeno tre misurazioni per dare un risponso le interruzioni della respirazione durante il sonno devono essere sottovalutate infatti colpiscono oltre un miliardo di persone in tutto il mondo e possono indicare problemi di salute più gravi come ipertensione, disturbi cardiovascolari e diabete quindi funzionalità molto gradita entrando poi in ogni sottomenu abbiamo dei dati molto più dettagliati ad esempio nel monitoraggio del sonno oltre all'analisi di tutte quante le fasi abbiamo anche il battito cardiaco con l'andamento, l'HRV oltre che il monitoraggio dell'ossitazione del sangue durante il sonno quindi si entra molto più nello specifico non solo numeri ma dati correlati tra loro che danno decisamente maggiori informazioni la disposizione dei vari grafici poi può essere cambiata sia come ordine che come informazioni da mostrare quindi anche sotto questo punto di vista sono piacevolmente soddisfatto la seconda schermata aggrega i dati quindi mostra tendenze, rapporti settimanali, consigli generali per migliorare il benessere che sebbene non customizzati sull'utente sono comunque utili e ci danno una visione ad ampio spettro del nostro stato di salute infine nell'ultima scheda denominata ME abbiamo tutti i nostri traguardi la batteria rimanente, la durata stimata e tutta la parte del management dei dati dove possiamo collegare Google Fit e anche decidere un periodo nel quale vogliamo estrapolare i nostri dati che ci verranno inviati via mail anche se l'invio non è immediato vengono indicate massimo 24 ore, io li ho ricevuti entro pochi minuti e vengono esportati in un comodo e chiaro formato CSV per essere magari processati ed elaborati successivamente possiamo poi settare i nostri obiettivi, aggiungere il widget, ce ne sono 6 stiamo parlando di smartphone Android e ci hanno subito un overview senza aprire l'applicazione settare le notifiche come il livello basso della batteria o un battito cardiaco troppo alto cambiare la lingua come già detto ancora l'italiano non c'è ma arriverà a breve cambiare poi le unità di misura e aggiornare il firmware o abilitare la modalità aeroplano quando viaggiamo oltre a fornirci dati come seriale e mac address il tutto devo essere sincero e molto intuitivo l'app come già detto consente anche di monitorare l'attività fisica anche se questa funzione è ancora in base beta con opzioni per corsa all'aperto, al chiuso, ciclismo e camminata poiché l'anello intelligente non ha un GPS integrato e un dispositivo così piccolo sarebbe un miracolo di ingegneria è necessario avere il telefono con sé per tracciare percorsi di corsa o ciclismo è prevista anche l'aggiunta di altre attività fra cui il salto della corda e lo yoga altra cosa che voglio dirvi subito è che non è possibile pagare con l'ausilio dell'anello e anche che il conteggio dei passi tende a essere un po' sovrastimato ma allora perché comprarlo? Beh semplice perché pesa da 2 a 3 grammi a secondo della dimensione ed ha un'autonomia reale di 10 giorni e grazie alla basetta che garantisce circa 10-12 ricariche si ha un'autonomia totale di oltre 4 mesi senza collegarlo alla rete ha un monitoraggio dei parametri vitali che reputo davvero molto ben fatto e cosa non da poco non è necessario alcun abbonamento per farlo funzionare quindi l'unica spesa che dovremmo affrontare è quella dell'acquisto del dispositivo all'interno della scatola poi troviamo anche un comodo cavo USB-C da entrambe le parti oltre che i manuali che come dico sempre vorrei fossero sostituiti da un bel QR code Panello ha un sensore di battito cardiaco che aiuta anche a misurare lo stress e il sonno oltre all'Heart Rate Variability che misura la variazione del battito cardiaco a riposo a parità di condizioni il nostro corpo varia di pochi millisecondi un battito rispetto a un altro mediamente tra i 20 e i 40 queste variazioni sono fisiologiche vuol dire che il corpo risponde in modo flessibile alle micro variazioni interne al contrario un battito cardiaco che non ha micro variazioni e indice che il corpo è affaticato e che per non creare ulteriori squilibri si concentra sul variare minimamente il battito cardiaco quindi questo dato è estremamente molto importante abbiamo poi il sensore per la misurazione della situazione del sangue nei miei test ho valutato i dati con una fascia cardiaca e due smartwatch e ho rilevato una notevole precisione nelle misurazioni misurazioni che vengono registrate da un'applicazione molto ben fatta e che ci dà non solo un confronto con i periodi precedenti ma anche dei consigli su come migliorare la nostra salute ed è sull'applicazione disponibile sia per iOS che per Android che va concentrato il focus di questo prodotto in quanto l'anello non può fornirci niente di visuale e si occupa solo di rilevare dei dati indossando il dispositivo sul dito poi abbiamo un vantaggio non tralasciabile ovvero un monitoraggio più curato del son e della salute rispetto magari ad un orologio e ciò dovuto al fatto che c'è una maggiore presenza di capillari nelle dita rispetto ai polsi ricordiamoci comunque che qualsiasi dato ci fornisca non sostituisce il parere di un medico come al solito cari amici per giudicare un prodotto il prezzo sposta molto lago dalla bilancia questo dispositivo viene venduto ancora su kickstart a 299 dollari circa 270 euro decisamente meno dei 449 euro del Samsung Ring o dei 399 euro dell'Aura Ting 4 che sono i suoi diretti concorrenti poi è disponibile anche questo fantastico accessorio che protegge il nostro anello permettendoci di utilizzarlo anche quando ci alleniamo evitando che si righi nel contatto ma ad esempio con gli oggetti quotidiani davvero ben fatto beh cari amici siamo arrivati al solito momento dei pro e dei contro tra i pro sicuramente design e materiali peso tra 2 e 3 grammi a secondo la dimensione tanti dati raccolti che ci danno un sacco di informazioni applicazione davvero ben fatta autonomia quasi 10 giorni con una singola carica e oltre 4 mesi senza collegarlo mai alla rete è uno dei dispositivi più economici del suo settore non è necessario alcun abbonamento tra i contro invece non sono sopportati i pagamenti non c'è senso l'NFC quando si misurano le apnele l'autonomia diminuisce e poi al momento l'applicazione non è in italiano anche se dovrebbe arrivare a breve il monitoraggio dell'attività fisica è solo in beta bene cari amici il mio video termina qui mi raccomando condividetelo e fatemi sapere con un bel like se è stato il vostro radimento noi ci vediamo in un prossimo contenuto mi raccomando attivate la campanella per non perderlo un saluto dal mastro di youtube e di tiktok che ha bisogno del tuo supporto anche su instagram ciao 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 Grazie a tutti.